Doveva essere la sfida del riscatto per la tripalda volley, ma la squadra di Kola Russo va KO anche contro il Sax Napoli, uno stop che fa seguito a quello contro il Rione Terra. Prima ancora una volta di Roberto D'Angelo infortunato, i Sabatini si arrendono per 3 a 1. No, credo che nelle ultime gare noi le abbiamo affrontate con la giusta concentrazione e cattiveria perché sia la gara con Bozzoli che abbiamo fatto un primo set perfetto, poi dopo ci siamo impantanati nei nostri errori e quindi la pallavolo è uno sport che poi chi meno sbaglia vince, loro sono stati più bravi di noi. A Napoli abbiamo fatto una quantità enorme di errori e quindi capisci bene che se non giochi di squadra e tutte le componenti funzionano coralmente, poi diventa difficile vincere la partita. E nel prossimo weekend arriva Nola. Non è un problema di riscatto perché con i ragazzi ho parlato anche, visto che ci sono tante partite, bisogna fare una partita alla volta con massima concentrazione e la cattiveria è giusta per poterle vincere, quindi non è un problema di affrontare la partita successiva a una sconfitta come una partita di riscatto, bisogna affrontare tutte le partite di settimana in settimana con la dovuta concentrazione e portando in partita quello che di buono si fa in allenamento.